Ravava rimasto a pari da settantù. Il carattere dei tribuni era diverso sotto tutti gli aspetti da quello dei consoli. La loro apparenza era modesta, ma la loro persona, sacra e inviolabile. Il loro potere era fatto per l'opposizione più che l'azione. Erano stati creati per difendere gli oppressi, condonare le offese, accusare i nemici del popolo. E quando loro ritenevano necessario, fermare con una sola parola tutta la macchina del governo. Finché la Repubblica rimase in vita alla pericolosa influenza che i consoli e i tribuni avrebbero potuto derivare dalle rispettive giurisdizioni, era attenuata da restrizioni numerose e importanti. La loro autorità scadeva con l'anno nel quale venivano in lati. La carica dei tribuni era divisa tra due persone e quella dei consoli tra dieci, poiché tanto dell'interesse pubblico quanto dei loro interessi privati. Erano apposti gli uni agli altri, loro reciproci contrasti contribuivano per la maggior parte alla forzare anziché distruggere l'equilibrio della Costituzione. Quando pare i poteri, i consolari e i tribunizi erano uniti, quando venivano conferiti i biteri natural durata a una sola persona, quando il generale dell'esercito era nel medesimo tempo ministro del Senato e rappresentante del popolo, era impossibile resistere all'esercizio della sua prerogativa imperiale, così come non era facile definirne i limiti. A questo accumulo di onore la politica di Augusta non tardò a aggiungere alla dignità, importante quanto fastosa, di pontefice massimo e di censura. Con la prima acquistò il governo dalla religione e con la seconda il controllo legale sui costumi, e sulle vicende del popolo romano. Se tanti poteri separati e indipendenti fossero riusciti a costituire un potere unico senza alcuna falla, la compiacenza del Senato era pronta, con le concessioni più ampie e eccezionali, a ovviare a ogni manchevolezza. Gli imperatori, nella loro qualità di primi ministri della Repubblica, erano esenti dagli obblighi e dai rigori di molte leggi scomode. Avevano la facoltà di convocare il Senato, di presentare primazione nello stesso giorno. Di raccomandare i candidati agli onori dello Stato allargare i confini della città. Far uso a propria discrezione degli introiti del fisco, dichiarare la pace e la guerra, ratificare i trattati. E in virtù di una clausola molto ampia, avevano il potere di mettere in atto qualunque cosa fosse a loro avviso vantaggiosa all'impero e conveniente alla maestà delle cose private o pubbliche, umane o divine. Quando tutti i diversi poteri dell'esecutivo erano affidati al magistrato imperiale, i magistrati ordinari della Repubblica languivano nell'oscurità, senza vigore e quasi senza occupazione. I nomi e le forme dell'antica amministrazione furono conservati da Augusto con la cura più sollecita. Il consueto numero di consoli, pretori e tribuni veniva investito ogni anno dei simboli delle rispettive cariche e continuava a esplettarne alcune delle funzioni meno importanti. Quegli onori attraivano sempre la bella ambizione dei romani e gli stessi imperatori, seppure investiti dai poteri del consolato vita natural durante. Aspiravano frequentemente al titolo di quell'alto ufficio annuale, che consentivano di vivere con i loro cittadini per industrie. Nella lezione dei consoli durante il regno di Augusto, si lasciò che il popolo mettesse a nudo tutti gli inconvenienti di una sfarnata democrazia, invece di mostrare il minimo segno di impazienza. Quello scaltro principe solicitava umilmente i soffragi del popolo, per sé o per i suoi amici, e adempiva scrupolosamente a tutti i doveri di un normale candidato. Ma ci si è consentito attribuire ai suoi consigli il primo atto del susseguente governo, con cui le elezioni venivano trasferite al Senato, le assemblee del popolo furono abolite, e per sempre gli imperatori si liberarono di una moltitudine pericolosa che senza ripristinare la libertà, avrebbe potuto però turbare e forse mettere in pericolo il governo costituito. Dichiarandosi protettori del popolo, Mario e Cesare avevano sovvertito la costituzione del loro paese. Ma una volta umiliato e resi in occhio il Senato, si capì che quell'assemblea di cinque o seicinta persone fosse uno strumento di dominio molto più utile e arendevole. Fu sulla dignità del Senato, che Augusto e i suoi successori fondarono il loro nuovo impero e in ogni occasione assentarono di adottare il linguaggio e i principi dei patrizi. Nell'esercizio dei loro poteri consultarono frequentemente quel grande consiglio nazionale e parvero rimettere alle decisioni e dal Senato alle più importanti questioni relative alla pace e alla guerra. Roma, l'Italia e le province interne erano associate all'immediata giurisdizione del Senato. Per quel che riguarda le questioni civili e penali, il Senato era rispettivamente alla Suprema Corte, d'appello, e un tribunale costituito per giudicare tutti i reati che venivano commessi da chi deteneva una qualsiasi carica pubblica o che influivano sulla pace e la sovranità del popolo romano, l'esercizio del potere giudiziale divenne l'occupazione più abituale e più seria del Senato. E le cause importanti che venivano discusse innanzi a lui offrivano l'ultimo rifugio allo spirito dell'antica eloquenza. Come Consiglio di Stato e come Corte di Giustizia il Senato possedeva prerogative molto importanti, ma nella sua vasta e legislativa, in cui era considerato praticamente rappresentante del popolo, si riconoscevano a questa Assemblea tutti i diritti della sovranità. Ogni potere derivava dalla sua autorità, ogni legge veniva ratificata dalla sua sanzione. Le sue sedute regolari si tenevano in tre giorni fissi di ogni mese, le calende, le nonne e le idi. I dibattiti si svolgevano con una discreta libertà e gli stessi imperatori, che si gloriavano del nome di senatori, sedivano, bottevano e discutevano con i loro pari. Per riassumere il sistema del governo imperiale così come fu istituito da Augusto e conservato da quei principi consapevoli del proprio interesse e di quello del popolo, può essere definito una monarchia assoluta mascherata dalle forme di una repubblica. I padroni del mondo romano tenevano a volto il loro trono nella più completa oscurità. Essi professavano umilmente ministri responsabili dinanzi al senato, di cui dettavano e seguivano i supremi decreti. La corte era formata sul modello del governo, gli imperatori ove si accettuino quei tiranni la cui capricciosa follia violava ogni legge di natura e di discrezione. Sdegnavano quel fasto e quel cerimoniale che mentre avrebbero potuto suscettare qualche risentimento nei loro connazionali, non avrebbero potuto aggiungere nulla al loro potere reale. In tutte le funzioni della vita mostravano di confondersi con i loro sudditi e mantenevano con loro un rapporto di visite e di intrattenimenti su un piede di parità. Il loro abbigliamento al loro palazzo e alla loro tavola si confacevano soltanto all'aranco di un senatore facoltoso. La loro servitù, per quanto numerosa e sfarzosa, era formato interamente dagli schiavi e dai liberti. Un principe debole sarà sempre governato dai propri domestici. Il potere degli schiavi aggravava la vergogna dei romani e se il nato rendeva omaggio a Palade o a Narciso. Ai nostri giorni esiste la possibilità che un favorito sia un gentiluomo. Augusto o Traiano si sarebbero vergognati di valersi dei più miseri tra i romani per quelle umili incombenze che nel palazzo e nella camera dal lato di un monarca costituzionale vengono tanto ansiosamente sulle città dai più altari nobili d'Inghilterra. Grazie a tutti.